Oggi mi sono vaccinato per proteggere me stesso, ma soprattutto per proteggere anche gli altri. Il superamento del coronavirus è evidentemente una sfida che ci coinvolge tutti, coinvolge i giovani, meno giovani, soprattutto anche i giovani, perché in queste settimane quelli più contagiati sono proprio i giovani, ed ora è un momento di fare una scelta di responsabilità, perché le scelte di oggi evidentemente avranno conseguenze importanti nei prossimi mesi e quindi la decisione che prendiamo oggi determinerà che tipo di settembre, che tipo di ottobre, che tipo di novembre avremo in Ticino. Distanti ma vicini. Proteggiamoci ancora.